Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Jack Dolce, siamo a un nuovo video di Star Wars Battlefront 2. Ecco, qua potevo farci una serie di film, non c'era una storia, mentre qua c'è una storia. Capitano, è ben addestrata, furtività, infiltrazione, estrazione, è delle forze speciali. E quella lì sulla Vendica Re, che hanno ammazzato l'imperatore. Sì? Ok. Eh, sono importante come YouTuber. Voglio essere chiaro, non c'è un canale di YouTube che combatti, non c'è niente, abbandona l'esercito e fatti la vita per YouTube. Ti basta dirmelo Ma io preferisco fare vita a Youtube invece che fare combattere Sai che potresti servirci Sì, i miei video vi servono E io l'ho d'ora È solo questione di tempo I miei tecnici stanno frogando nel tuo droide Lo sai Tu fatelo O i miei video saranno eliminati per sempre Accetta l'offerta Dammi il codice Lo darò quando mi iscrivete al mio canale È giunta l'ora per l'impero Ma tu puoi ancora salvarti Però che sto facendo io qua? Hai ragione È proprio giunta l'ora per l'impero VZ 626 La tua lingua di Star Wars Sembra qualcuno che non c'è altrimenti mai Un droide tattico ID10 Sei più sofisticato del modello ID9 Provi starti dentro Non sarà affatto facile Tra l'amico visuale Il problema è che non abbiamo il codice d'accesso del droide Posso suggerire di trovare il codice? Il capitano ci sta lavorando al centro di detenzione Fino ad allora L'unico modo per accedere ai dati È rimuovere il nucleo di memoria dal telaio Oppure? Su questo droide di ID10 Sì 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 Mi sono iniziato con me Deve fare un nuovo guverno Oh 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 Sì 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 Sei molto Sì Buonasera Sì 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 grazie per cultività viene il comando si aspetta aggiornamenti prima di se fossi molto bello molto bello pieno di farfalle elettriche vai vai come farfalle elettriche una rete, i miei circuiti tutto lo scarico dell'acqua oh una nave si beccano un casino sconsumiamo sconsumiamo non so così per sicurezza scusare la traccia ancora però pericolosa non vediamo tutta la traccia se non si può vedere bene ci sono anche molto mini vai vai dai cavolo 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 e vattene scappa guarda ma io ora me ne vado eh volevi si dai dai io che andiamo ecco giusto in tempo andiamo dai agente ask mi ricevi fermativo comandante aversio timpismo perfetto sto andando al centro comunicazione ricevuto eliminato il messaggio imperiale rubato darò il segnale per il recupero ok si ben capito apro il dolce si sta trasfondo come un genio noi decideremo cosa farcene di te quindi fino ad allora stai seduto ah lo coltello si non possiamo rubargli il blaster neutralizzazione credo ci stiamo forse non c'entrò da qui anche a me sono quasi come nel rebel sono quasi un inquisitore avremmo dovuto distruggere la nave avremmo adestato troppi sospetti in questo caso si arriva a discrezione molto bene comandante non è un invincibile effetto ormai saprete del segnale che indica alle navi dell'allianza di raggiungere il sistema da là con questo inganno distoglieremo l'attenzione dell'impero da santa si dai e le cose devono restare così se decodeguitano la trasmissione prima che io la cancelli il piano fallerà si ma non poteva rubarli la curva le che ha ammazzato forse non c'è una buona idea senza provarci notare dai IMB non ho visto cavolo un fai via 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 corriamo Agente Asker, sono al centro comunicazione Cancellare il messaggio farà scattare l'allarme Pronti a recupero Ho trovato il messaggio cifrato Contatto Dov'è? Non siamo soli Neuralizzati Va bene Ripolliamo la stanza Così? Dai Un messaggio Sì Lì attenderemo l'attacco dei ribelli Ah che stasera Lo sapevano i ribelli Eliminato I ribelli non sapranno nulla Attenzione Una prigioniera imperiale è fuggita È estremamente pericolosa Trovate la zona Agente Asker È il momento Inizio i preparativi Oh sì Altre cluster Prendo un blaster E vado al punto di recuperare Ma non ho quell'altro Il cavolo Anche il corpus Un po' Poi Trai Che 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 andiamo compagnia dai scoppa questo una forza un arcudo non so quanto ti muoio troppo potrò nasconderà una porta come un Shining dai apri il muoio ti muoio questo è un cavolo non so ok non so non so non so non so non so no ammazzato no riproviamo dai corri corri dai dai nooo eh ragazzi oggi farò questa sento che sia una volta buona dai 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 ok no in modo un generale Corro io qui non invece ok adesso questo è il tutto una qui No, ancora, non taglio io Sai come ragazzi, sono tornato, ce l'ho fatta Muori 4-5, così Dai Non lo so, ne arriverà forse uno con la mitagliatrice Guarda quanto ci mette Oh, ce l'abbiamo fatta Oh, ce l'abbiamo fatta Guarda i gatti Guarda i gatti Guarda i gatti Anche Anche Vai Agente Asi Comandante in plancia Riposa Funzione compiuta, comandante Con zero perdite Sarei ancora il secondo in comando Oh, sono paziente Posso aspettare Agente Nico I calcoli per il salto erano perfetti Beh, grazie L'atterraggio è andato bene? Meglio di altro Incursione di Jabez, tipo Ho ancora gli incubi Andata all'ammiraglio Sì, comandante E il messaggio? La flotta non è stata compromessa Oggi è la fine della ribellione Oppure il conterario Star Wars Battlefront 2 E ragazzi Da concludo quale episodio Se vi è piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Sì, comandante